Dove si trovano esattamente i cantieri? Il cantiere è un cantiere regolato senza unico alternato col semaforo. Il semaforo è uno nella nostra direzione all'inizio proprio delle gallerie e l'altro è all'inizio delle gallerie lato Lavagna, quindi prende tutta la lunghetta delle gallerie di Sant'Anna. E questo crea i problemi perché ovviamente c'è una necessità di tutto rosso molto prolungata, data la lunghetta del cantiere. Sono stati veramente problemi ieri sera soprattutto lato Lavagna, dove la coda è arrivata da Renelle. Oggi pomeriggio si prevede una situazione analoga? Presumente sì, anche se non sappiamo indicare l'orario di termine del cantiere perché l'Anna stesso non è in grado di dirlo, perché dipende dai lavori. Noi quello che abbiamo potuto fare è che abbiamo messo sui pannelli l'avviso, abbiamo messo dei cartelli di preavviso negli incroci precedenti, quindi effettivamente questo ha portato a un po' di sgravio della coda. Oggi dovrebbe essere comunque l'ultimo giorno? Sì, oggi finisce sicuramente, potrebbe essere alle 20 come potrebbe essere alle 18, alle 17, non lo sappiamo. Non hanno saputo dircelo. In sostanza i lavori che stanno facendo che cosa sono? Sono carottaggi adesso, sono degli assaggi perché vogliono rimettere in sicurezza tutte le gallerie, rifare i pilastri, muri di contenimento. Ieri c'erano addirittura dei lavori in parete, quindi probabilmente vorranno rinforzare anche la griglia che c'è sulla parete a monte, lato Lavagna. Viabilità alternativa non ce n'è? Chi può prendere l'autostrada, prende l'autostrada diversamente. Per i mezzi che non possono andare in autostrada non c'è alternativa. Grazie. Grazie.